Ho ho ho! Volete sapere perché sono Babbo Natale? Beh, non sono in incognito e non voglio fare degli scherzi ma voglio fare Babbo Natale Beh, su Brookhaven di solito non si fanno molti regali ma è proprio per questo per cui oggi sono qui insieme a voi per consegnare i regali alle persone Beh, siete pronti? Io tanto! Quella è casa mia e devo andare a prendere la slitta Beh, cosa aspettiamo? Andiamo? Ho 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 ho! Bene, andiamo! Ok, cerchiamo di volare molto in alto così da vedere tutta la città e cercare di trovare qualcuno a cui dare i regali Penso che al centro ci sia molta gente e non ce n'è proprio tantissima ma già ho trovato qualcuno! Via! Ok, ho trovato una simpatica ragazza non so se sia simpatica ma vabbè le diamo un regalo Scriviamole Ciao Oh, senza l'h perché sennò lo censura Un regalo per te Lo vuoi? Vediamo la sua risposta Quindi se lo scrive ok Si scrive sì Ok Perfetto E adesso glielo diamo Ok, vediamo se lo prende Sì! Ok Andiamo Di nuovo sulla slitta Per consegnare il prossimo regalo speriamo che lo vogliono oh ok è scritto certo va bene ne lo diamo andiamo a vedere se lo vuole anche la ragazza ciao buon Natale ecco a te il tuo regalo ok lei ha scritto grazie col punto interrogativo però va bene questo è il mio regalo e come potete vedere ne ho anche tanti sotto l'albero quindi mi cambio mi metto nei miei panni entriamo e mettiamo il regalo qui proprio sotto l'albero bene adesso dopo questa lunga giornata da Babbo Natale mi riposo un po' in piscina ma chi sono questi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.